Eletti, amici cari, mi manifesto e mi rivelo sempre più a chi arde d'amore per me, Gesù. Figlia cara, sempre mi chiedi con ardore. Gesù adorabile, lasciati conoscere dal mondo. Chi ti conosce, non può non amarti. Questo mi ripeti con ardore ogni giorno. Ecco la mia risposta. Il mio ardente desiderio è proprio quello di farmi conoscere dal mondo intero. Voglio che tutti i popoli si riuniscano nel mio amore e siano guidati da me, unico pastore santissimo. Voglio lasciarmi conoscere sempre meglio. Ma i popoli e le nazioni del terzo millennio vogliono conoscermi? Hanno tale desiderio? Dimmi. Dolce amore, ho compreso ciò che vuoi dirmi. Non ti fai conoscere per ora da chi non vuole la tua conoscenza. Tu, Gesù, ami immensamente ogni uomo della Terra, tu sei il creatore, sei il salvatore di ogni uomo. Desideri corrispondenza al tuo sublime sentimento. Questo desideri per manifestarti sempre di più. A chi ti ama con cuore ardente ti manifesti in mille modi, giorno dopo giorno. Ma non avviene questo per chi non vuole conoscerti. Capisco bene che ogni uomo della Terra deve chiedersi. Voglio conoscere Gesù? Se la risposta è positiva, egli sa con certezza che tu ti manifesterai ogni giorno di più. Se la risposta è negativa non si aspetti nulla, perché tu, Gesù, dolce amore, non vuoi essere amato contro voglia da alcuno. Figlia amata, apri la mente e comprendi. Si può fare ascoltare una musica meravigliosa ad un sordo? Si può mostrare un'opera d'arte di gran pregio ad un cieco? No, certo, non servirebbe farlo. La musica non sarebbe apprezzata e neppure capita l'opera d'arte. Tutto sarebbe inutile. Hai compreso, piccola mia, il mio dire? Dolce amore, col tuo aiuto, capisco che tu operi sempre con grande sapienza, e non getti al vento i tuoi doni più sublimi, e quale dono è più sublime, di quello di lasciarti conoscere sempre di più, di manifestarti alla tua creatura prediletta? Come vorrei, dolce Gesù, che già ogni cuore ardesse d'amore per te? Vorrei che con la tua manifestazione facessi felice ogni uomo della Terra, creato a tua immagine e somiglianza. Questo ancora non avviene. Sono molti che ancora non ti conoscono, perché non vogliono impegnarsi a conoscerti. Essi non possono avere il paradiso nel cuore, perché solo tu lo porti con la tua manifestazione. Essi sono senza gioia e senza pace. Dolce amore, siano le suppliche ardenti della madre tua, unite a quelle dei piccoli più piccoli, ad ottenere la grazia meravigliosa quella cioè che si sciolga il ghiaccio dei cuori, affinché divengano ardenti d'amore per te. Venga presto il giorno meraviglioso, tanto atteso. Figlia cara, il mio cuore vuole dare tutto, vuole concedere pace e gioia ad ogni angolo della Terra, ma non trovo corrispondenza. Sempre grande è stato, ed ardente il mio desiderio. Ma vedi pace sulla Terra? Vedi gioia? Non c'è pace, non c'è gioia nei cuori, perché gli uomini le rifiutano, e mancano non per me, Dio, che tutto vorrei offrire. Mancano per la freddezza di molti che non vogliono. Dolce amore, immenso è il tuo amore per ogni uomo, per l'intera creazione che tu sostieni, giorno dopo giorno, col tuo sublime sentimento. Ma tu, Dio, tu, dolcezza infinita, tu, balsamo soave di ogni anima, tu, che tanto ami, non sei corrisposto, concedi sempre, a chi ti ama con grande ardore, te stesso. Figlia cara, forse non lo sto facendo? Chi mi desidera mi ha, a chi mi ama ardentemente mi manifesto sempre più, in diversi modi, fino a darmi in cibo, col corpo, con l'anima, e con la mia divinità. Posso fare di più di quanto già stia facendo? Sia tu benedetto, Gesù, dolce amore. Grande è la tua generosità, immensa la tua bontà. Ne gusti le delizie ogni uomo della terra. Figlia cara, resta, felice, nel mio cuore e dona gioia a chi la chiede. Vi amo. Grazie. Grazie a tutti.